Nel mondo dell'intrattenimento italiano, Ambra Angiolini è tornata a far parlare di sé, ma questa volta rivolgendosi direttamente a Giorgia Meloni dopo il caso Gian Bruno. Prima di continuare ricordati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Il tuo contributo è prezioso, grazie di cuore. A 46 anni, l'ex star di Non è la Rai ha attraversato una serie di fasi nella sua vita, tra successi professionali, problemi alimentari, insulti e amori finiti. Tuttavia, Ambra Angiolini è emersa da tutte queste sfide come una fenice dalle mille vite, pronta a affrontare il mondo con la sua autenticità. Ciò che colpisce di Ambra è la sua capacità di esprimere il suo giudizio senza mai ricorrere all'offesa. Questa donna versatile e umana è pronta a difendere la sua visione senza attaccare personalmente chiunque le stia di fronte. Non amo stroncare, ha dichiarato, per mia deontologia, ho scelto di usare un modo gentile per dire quello che penso. La gentilezza è la cosa più rock nella vita. Tra i capitoli più importanti della sua storia personale c'è il ruolo di madre. Sia sul palco di X Factor che nella vita di tutti i giorni, Ambra Angiolini è una mamma amorevole dei suoi figli, Leonardo e Yolanda Renga. La mia ambizione era la maternità, ha condiviso con orgoglio. I miei figli sono la parte sana, sono nati come due punti esclamativi, mi rendono felice. Oltre al suo ruolo di madre, Ambra è un'appassionata sostenitrice dei diritti delle donne. Parla di battaglie che devono essere vinte non solo dalle donne, ma da tutti insieme. Uniti. Quelle contro lo stupro e il femminicidio non dovrebbero essere solo battaglie femministe, ma anche degli uomini, afferma con convinzione. E dopo il caso Gian Bruno, Ambra Angiolini si sente persino in grado di dare un consiglio alla politica, rivolgendosi a Giorgia Meloni. Con lei sarebbe divertente parlare d'amore. Se si fida, la porto fuori dal tunnel, però sono ancora nomade. Infine, su temi sociali e diritti, Ambra Angiolini riflette. Al di là dei governi, siamo tutti responsabili. Ho scelto la questione omosessuale da sempre. E tutto mi riguarda dalla parità salariale. Ambra Angiolini è chiaramente una figura pubblica che ha molto da dire, non solo sulla musica e l'intrattenimento, ma anche su questioni più ampie che riguardano la società italiana.